Chiediamo chiarezza, soprattutto vogliamo trasparenza e non vogliamo che le cose siano gestite da poche persone. Il sindaco è un membro del Consiglio Comunale, la competenza urbanistica di tutto il Consiglio Comunale è che maggioranza ed opposizione devono decidere insieme sul futuro della città e non in camere nascoste con magari accordi e patti sotto banco. La chiarezza richiesta a Mogliano dalle opposizioni riguarda il futuro dell'area ex Macevi, un terreno di ampie proporzioni, dismesso in preda al degrado, ma chi ha il merito non indifferente di trovarsi a due passi dal centro cittadino. Messo in vendita dopo tre aste finite deserte, il terreno, che secondo quanto stabilito anni fa dal Consiglio Comunale dovrebbe essere destinato ad edilizia residenziale, ha invece improvvisamente destato l'interesse di diversi acquirenti di area commerciale. Questo rialzo che ha portato la vendita del terreno da 3 milioni e 8 a 5 milioni e 5 fatalità la vigilia di Natale senza che il Consiglio Comunale sapesse nulla. Perché? Perché questa è un'area squisitamente residenziale e nessun operatore commerciale può realizzare su quest'area un centro commerciale senza un'opportuna variante urbanistica. E troviamo strano questo fatto. Qualcuno deve aver garantito o deve aver suggerito a questi operatori di presentarsi all'asta. Le opposizioni non sono prioristicamente contrari ad un centro commerciale ma chiedono una condivisione ed una trasparenza che accusano finora in mancata. Il Comune stasera approva il piano strategico per il Sindaco nel quale non c'è assolutamente scritto che si vuole variare dal punto di vista urbanistico quest'area. Credo che sia opportuno fare un'uscita su questa partita perché gli stessi operatori privati potrebbero ritrovarsi in braghe di tela. Grazie a tutti. Grazie.